Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio, siamo? Siamo vicino al tribunale di Arezzo che è alle nostre spalle. Nel parcheggio del tribunale. Nel parcheggio del tribunale. Ci sono arrivate due segnalazioni di alcuni residenti riferiti a questi scarti edili, probabilmente del cantiere di questo parcheggio, quando è stato fatto questo nuovo parcheggio, che sono oltre un anno che sono stati abbandonati qui senza che nessuno li abbia rimossi. Vediamo che ci sono dei ferri, una specie di mattonato e via dicendo. Spaccato, quello che si è rotto l'ha lasciato qui. L'ha lasciato tutto. Vive i cantiere, hanno lasciato anche dei transeni. Però ci hanno lasciato anche un'altra cosa. Cosa? Che siamo in tema. Cosa? Operatore? Cosa? Le castagne. Ci hanno lasciato anche le castagne. Le vuoi Fabio? Ti ringrazio, non mi piace. No. Ti do questa notizia. Non mi piace. Neanche in gergo? Neanche in delettorico? Io ho domandato. Hai fatto bene, no? In quel gergo sì. Vedo che passano tutti dal, hai visto dove scelgo i strisci pedonali? Sì. Ed entrando dentro il parcheggio. Quello è mica passo per le auto, è passo pedonale. Passano tutti lì, hai visto? Fanno una prima. Fanno una prima. Comunque, qui ad esempio una signora ci dice, sono almeno un anno che giacciono questi rifiuti sopra il manto erboso senza che nessuno li abbia mai rimossi. Ho scritto anche all'assessore in materia Marco Sacchetti, il quale mi ha comunicato che era necessario del tempo per la loro rimozione, dato che non sono catalogabili come normali rifiuti urbani. La risposta l'ho ottenuta più di sei mesi fa e la situazione è della medesima. Ma ci vuole del tempo. Del tempo. Quanto non si sa. Quanto non si sa. Chiedo se possiate realizzare un servizio. E siamo qua signora, siamo venuti proprio a documentare questo. Quindi diciamo che qui abbiamo, possiamo dire, la non curanza di chi ha fatto i lavori, è stato pagato, presumiamo, e ha lasciato questi scarti, perché è l'azienda che li deve rimuovere. E ci credo. E ci credo. Secondo, il disinteresse della parte pubblica, perché se anche ci vuole del tempo, quanto tempo ci vuole per rimuoverli. Cosa aspettiamo? Ma però non soltanto non c'è la rimozione, ma ci sono anche da fare dei lavori, perché se riesci a riprendere qua, si vede benissimo, qui il tombino è completamente aperto, qui è sotto, è aperto. Quindi hanno lasciato pure il coso in computer, il lavoro in computer. Non vuole terminare, perché sicuramente c'è un tombino molto grande che poi deve essere chiuso. I lavori anche non finiti. Anche lavori non finiti ci sono, quindi. Hanno lasciato anche quella transenna. Ma quella per salvaguardare questo materiale da eventuali scippatori. Sicuramente volevano tornare a riprenderlo, poi non sono tornati, che devono fare? Devo tornare a riprendere, per forza, non lo posso lasciare. E da un anno? E dai quando tornano? Speriamo che non sia fallita la ditta. No, perché scusa, se il comune dice che non sono rifiuti che si possono, rifiuti urbani, significa che il comune pensa di far intervenire tipo 6 e non l'azienda stessa, no? Dalla risposta che ha dato l'assessuale. Lo potrebbe fare, lo potrebbe fare, addebitando il costo all'azienda poi. Questo lo potrebbe fare, sì. Però un anno. Deve sollecitare l'azienda, se l'azienda non interviene, viene l'amministrazione e chiede poi il rimorso delle spese. Anche perché non è soltanto da rimuovere. Quindi se rimuovi poi c'è il buco, lasci. È bravo. Il buco per te. C'è questa bella erba che cresce. Meno male, così almeno copre un po'. Copre, sì. Copre perché qua sotto ce ne sono altre tanti. Sotto lì c'è il nastro divisorio, quello rosso. Qui dietro c'è altra coppa ancora. Sì, sì, qui è pieno. Anche perché non è che si può dire le fototrappole, la gente incivile, se poi cominciano a essere... Esatto. Perché questo lavoro... Che esempio diamo. Sono diversi anni che è stato fatto questo parcheggio e quindi di conseguenza penso che un bel po' che c'è questo cantiere. Tanto si vede anche la vela, la famosa vela del tribunale. Ci piove dappertutto, è vero? È vero. Peccato perché non è brutto. Esteticamente era bella. Non è brutto, è bella. È qualcosa di diverso in questa città. Gli dà un tocco diverso. Poi questa è una zona, vedi, sono dei palazzi tutti particolari. Quindi andava bene. Peccato che ci piove. E interverranno. Esidenzialmente è diventata una bella zona. È diventata una bella zona. Sì. E là giù sono quelle case che non sono state terminate. Anche là giù c'è il problema che c'è tutto incolto, abbandonato. Quindi, va bene. Speriamo che venga... Invitiamo l'assessore Sacchetti a interessarsi di nuovo di questi rifiuti. Anzi, magari andremo anche a ricordarglielo. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Ciao.